E' iniziato la scorsa settimana con la presentazione ufficiale qua da noi, un ciclo di incontri che abbiamo programmato per parlare del benessere psicofisico e poi c'è una settimana molto importante che sta per arrivare perché è quella del Fiocchetto Lilla. Sono tantissime iniziative che hanno lo scopo, l'obiettivo di dare un aiuto importante ai problemi alimentari giovani e meno giovani, soprattutto ovviamente il mondo giovanile. Oggi ne parliamo con Domiziana Giola che è psicologa e psicoterapeuta di Ananche Como che è tornata a trovarci. Ciao Domiziana, grazie e allora all'interno di questo ciclo di incontri ovviamente si inserisce e direi in maniera assolutamente perfetta perché ne abbiamo parlato anche l'anno scorso nel precedente ciclo, questo appuntamento proprio legato al fatto di tanti purtroppo ragazzi che hanno a che fare con i problemi alimentari e purtroppo non vivono bene, lo sapete meglio di me. Fammi fare solo una premessa in cui ringrazio l'amico e collega Giuseppe Napoli, la dottoressa Laura Parolin dell'Ordine degli Psicologi e il vice sindaco Nicoletta Roperto per questa importantissima iniziativa e questo spazio che stanno dando proprio al tema del benessere psicofisico. Perché per come lo intendo io, ma come lo intendono la maggior parte dei miei colleghi, la salute appunto non è soltanto l'assenza di malattia ma anche la presenza del benessere e la possibilità di parlare di come si possa promuovere quello che è il benessere psicofisico, perché poi sai no, mente e corpo sono un tutt'uno, diventa davvero un'occasione preziosissima. E quello che come Centranan che stiamo portando avanti proprio in occasione della settimana Lilla va proprio in questa direzione, cioè di prevenire l'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare attraverso attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione, proprio per favorire il benessere. Perché come ci dicevamo nella chiacchierata informale di prima, quando qualcuno, un ragazzo, una ragazza, un genitore accede alle nostre cure è perché qualcosa nella prevenzione è fallito. E purtroppo, però ecco no, una cosa molto importante da dire, lo abbiamo già detto la volta scorsa, poi però spessissimo, anzi in una stragrande maggior, si riesce a trovare una soluzione, però lo scopo e anche della settimana Lilla è quello di magari intercettare prima, prevenire piuttosto che curare, ovviamente sì, prevenire piuttosto che poi venire da voi, dagli esperti ovviamente, fare un percorso anche complicato. Buonissimo, anche perché sappiamo, e proprio la letteratura scientifica ce lo dice, ma anche l'esperienza nel nostro centro, che c'è proprio una correlazione tra la prognosi favorevole e il tempo che intercorre tra l'esario del sintomo. Quindi nel momento in cui c'è il campanello d'allarme e quindi che cosa sono i campanelli d'allarme? E durante questi incontri, che poi ti illustrerò meglio, ne parleremo proprio durante la settimana Lilla, questo permette il genitore, il ragazzo o l'amico di intercettare il bisogno e quindi poter poi chiedere aiuto. Ecco, allora tra le varie iniziative Domiziana, ma adesso magari iniziamo da questa qua, facciamo vedere anche la locandina ufficiale, che è questa qua, questo è l'incontro che ci sarà il 15, in collaborazione con il Comune di Como e Regione Lombardia e ASS Tilariana, brava esattamente. Sì, è un convegno che ci sarà in biblioteca a Como e questo è un convegno importantissimo. È un convegno importante perché viene svolto esattamente il 15 marzo, che è la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Apro e chiudo una parentesi, giusto per chi non lo sapesse, il Fiocchetto Lilla è una giornata che è stata istituita formalmente e ufficialmente nel 2018 con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma che è presente in Italia dal 2012 e che è stata scelta come data in Italia il 15 marzo su volere di un padre che ha perso la figlia Giulia per un malata di disturbo del comportamento alimentare proprio il 15 marzo. Ah, ecco, non lo sapevo questa cosa. Sì, dal 2012. È giornata nazionale, è istituita dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi una giornata proprio nazionale, quindi estremamente importante e quindi c'è il convegno, giusto, Domiziana? In questa occasione, sì, a Como, organizzeremo un convegno rivolto in particolare al mondo dei giovani. Infatti il convegno si intitola La Prevenzione dei Disturbiti dell'Alimentazione tra i Giovani. Ok, perfetto. Ed è abbiamo invitato le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Como. Sei psicologa e psicoterapeuta, servono questi incontri? Cioè, nel senso, i giovani, i ragazzi, poi in un confronto di questo genere, pubblico, magari, interagiscono? O comunque si può accendere la famosa lampadina? Assolutamente sì. Ah, ok, perfetto. Ho in mente altri incontri che sono stati fatti, in cui poi magari fanno fatica a esporsi in prima persona, magari nel momento delle domande. Quello volevo chiederti, brava. Noi abbiamo già pensato a una soluzione che può far girare un foglio durante l'incontro, in modo che loro possano scrivere le domande che vorrebbero fare. O comunque, appunto, accendere anche quella famosa lampadina a cui facevi riferimento, no? Per dire, oh, io... Cioè, anche essere onesti con se stessi, magari... Ma i giovani hanno assolutamente bisogno di essere ascoltati e di ascoltare. Quindi sfatiamo un po' il mito per cui i ragazzi sono disinteressati, non hanno, come dire, non hanno voglia di parlare delle loro... Perché se tu gli dai spazio, no, loro si aprono. E noi, con questo incontro proprio rivolto a loro, creiamo un'occasione di incontro e di confronto. Quindi, ricordatevelo, ecco qua, poi ne parleremo ancora diffusamente, ovviamente saremo lì, la prevenzione dei disturbi dell'alimentazione. Ne abbiamo parlato tantissimo l'anno scorso. Allora, la scelta di questo target è proprio perché, come tu ben sai, l'esordio dei disturbi dell'alimentazione è proprio nell'adolescenza. Sì, e tu e i tuoi colleghi avevate parlato appunto proprio nel precedente ciclo di incontri di Domiziana, dicendo che, insomma, si manifestano lì. E l'età forse maggiormente a rischio, quella dove bisogna essere bravi anche a intercettare... Sì, ahimè dopo il Covid si è abbassata, no, l'età d'esordio, però ancora la media ci fa andare in quella direzione rispetto al dove è importante iniziare a fare prevenzione. E vi faccio vedere un'altra locandina, anzi falla vedere tu poi, Domiziana, prima e poi la faccio vedere anch'io. Ecco, alzala leggermente qui a favore di camera, perfetto. Ecco, è una ragazza, una giovane, con... ecco, descrivila tu. Sì, allora, si tratta della mostra fotografica Io non esisto, che è un viaggio narrativo negli disturbi del comportamento alimentare. Ed è la mostra con cui noi inauguriamo la nostra settimana Lilla. È una mostra che ci sarà a Erba. Non so, ve la faccio vedere io. Sì, a Villa Ceriani e l'inaugurazione ci sarà il 9 di marzo, alle ore 16. Tra l'altro, Marco, ti volevo dire che tutti gli eventi, che come Anchecomo, ma anche come Rete Lilla, stiamo organizzando per la settimana Lilla, sono gratuiti. Quindi tutti gli interventi, la mostra fotografica, il convegno, gli sportelli informativi, i laboratori esperienziali, sono tutti gratuiti proprio per dare la possibilità alle persone di iniziare a conoscere un mondo che non conoscono oppure iniziare ad approfondire un mondo in cui si sentono già coinvolti. Domiziana, questa mostra è arrivata anche a Milano, è arrivata in regione. È arrivata a Milano, in regione. In regione, giusto? Sì, sì, è stata a Padova recentemente. È una mostra che è stata realizzata a Villa Miralago, che è la comunità residenziale più grande in Italia su cui si occupa di disturbi del comportamento alimentare. E le persone che vengono raffigurate e che sono state fotografate sono persone che in quel momento si trovavano a Villa Miralago. Anche questa ragazza. Sì, non solo pazienti ma anche operatori. La cosa importante di questa mostra è che si è scelto di non dare e calcare la mano sulla spettacolarizzazione della malattia, perché poi il rischio è quello di far vedere il corpo dimagrito, il corpo ingrassato, il corpo emaciato, ma di far vedere la persona, la persona con il suo volto, quindi con uno sfondo anche, foto tutte bianco e nero, con uno sfondo neutro e quindi far arrivare quella che è la dimensione più emotiva, no? Certo. Beh, allora io vi consiglio, verremo sicuramente domiziana perché credo sia molto importante, però ecco ve lo consiglio, ve lo ricordo ancora, abbiamo fatto vedere la locandina, eccola qua, quindi sabato prossimo, è sabato, c'è l'inaugurazione questo sabato, esatto, il pomeriggio, Villa Ceriani a Erba, per poterle poi vedere. Tutti gli orari di apertura e la mattina sono anche previste delle visite guidate per la scuola, quindi se ci sono studenti o insegnanti in ascolto, o anche genitori che vogliono sensibilizzare i loro istituti, possono appunto, ci sono tutti i rifiuti. Io credo che lo scopo fondamentale, no, dei vostro, degli psicologi, dei psicoterapeuti poi domenziali è quello proprio di intercettare questa cosa, perché mi pare di capire, Giuseppe, la scorsa settimana, Giuseppe Napoli ci diceva, è un'esigenza importante e sono dei problemi anche che poi toccano da vicino tante tante persone, famiglie ovviamente, e giovani, esatto, quindi lo scopo è quello di intercettare il maggior numero possibile di persone. Sì, esatto, lo scopo è quello proprio di dare voce a un dolore e un malessere che spesso è indicibile, che quindi trova proprio attraverso l'attacco del corpo l'unica modalità per esprimersi, quindi la possibilità invece di poterne parlare e di non far anche sentire sole le persone, le famiglie che si trovano in quel momento ad affrontare una problematica che intacca anche moltissimo quelli che sono i legami familiari da sostegno, no, dall'idea proprio di speranza anche rispetto a quello che può essere il percorso. Ma visto che avete una caterva di iniziative, faccio vedere anche questo incontro che è per lunedì, sera, lunedì sera. Sì, questo è un incontro riservato in particolare alle ragazze e ai genitori che abbiamo in cura, quindi abbiamo pensato a uno spazio proprio per loro e poi ci sono tutta una serie invece di laboratori esperienziali di danzaterapia, di arteterapia, di musicoterapia. Lo faccio vedere un attimo solo, eccolo qua, quindi danzaterapia, musicoterapia e arteterapia a erba, sono tutti a erba, giusto Domiziana? Sì, esatto. Ok. Cosa possono, cioè la musicoterapia, la danzaterapia, l'arte terapia, cosa possono? Sono degli strumenti, delle modalità con cui possono essere espresse, come dicevamo prima, delle emozioni, dei pensieri, dei vissuti che fanno fatica a trovare nelle parole una modalità adeguata e congrua di esprimersi. Quindi quello che io provo e quello che io sento invece di esprimerlo attraverso il corpo e il sintomo attraverso un percorso chiaramente di musicoterapia, di arteterapia e di danzaterapia diventano proprio degli strumenti con cui si possono esprimere i propri vissuti. Noi abbiamo fatto al centro un laboratorio di arteterapia con appunto Marina Crippa che sarà l'arteterapeuta che sarà presente, abbiamo fatto con Federica Nava un laboratorio di danzaterapia, musicoterapia la stiamo iniziando a fare, quindi davvero sono tutte esperienze che noi nel nostro quotidiano offriamo alle nostre ragazze. Sono domande le mie ovviamente dell'uomo della strada, però sono anche domande che possono incuriosire, perché state facendo veramente, ripeto, tantissime iniziative, poi qui è il florileggio, perché questa settimana, la settimana del Fiocchetto Lilla, immagino che ovviamente, come hai detto tu, certo c'è proprio il club poi il 15, ma ecco lo scopo è proprio quello di coinvolgere il maggior numero possibile di persone e far capire che questi sono problemi certo seri, importanti, ma che si può poi andare. Poi un po' per rispondere alla tua domanda, cosa si fa? Io direi venite e provate, no? Così faccio proprio l'esperienza di cosa vuol dire fare arteterapia, danzaterapia, musicoterapia. Ecco qua, quindi faccio rivedere ancora, quindi laboratori che si fanno a Erba, Villa Ceriani, o alla stazione appunto di Erba, giovedì, mercoledì 13, martedì 12, ecco queste sono le iniziative di questa settimana Lilla. Sì, poi sul sito www.settimanalilla.it ci sono proprio raccolte tutte le iniziative realtà di Regione Lombardia, perché noi abbiamo aderito a quella che è la settimana Lilla. Cioè c'è un sito ufficiale, vero? Sì, www.settimanalilla.it, che è il sito regionale, non di Regione Lombardia, ma il sito regionale, tutte le associazioni e le realtà di Regione Lombardia che si occupano di disturbi alimentari e che hanno aderito a questa settimana Lilla hanno tutte le loro iniziative. Vabbè, io direi che ce ne sono state tante, ce n'è un'altra che iniziativa presenteremo sabato, sempre legata comunque a dei disturbi alimentari. Insomma, ecco, tante iniziative, oggi abbiamo cercato di riassumerle tutte con Domiziana, appunto Ananche, como psicologa, psicoterapeuta. Che cosa ci rimane ancora da aggiungere? Abbiamo appunto questo ciclo di incontri per il benessere, per la salute, per il benessere psicofisico, comunque ne abbiamo già iniziato a parlare. Ecco, questo è sicuramente uno degli aspetti cruciali, direi. Sì, proprio poter parlare delle cose, non nasconderle, non avere i segreti, non avere i silenzi che spesso generano ancora più malessere, ma invece poter parlare di situazioni e condizioni che certamente causano dolore, ma che attraverso la condivisione, attraverso la relazione, attraverso la sensibilizzazione poi della, come dire, della persona, della società, ma anche poi, insomma, di chi fa politica o di chi si occupa, no, più in grande delle scelte, no, a livello di salute mentale in questo caso, no. E quindi nel momento in cui un tema, di un tema se ne parla e di un tema viene attenzionato anche dall'opinione pubblica, che è chiaro che chi poi deve compiere delle scelte rispetto a quel tema tiene conto, no, di quanto viene sentito e viene vissuto quel tema. Ok, salutiamo i nostri ascoltatori, sono veramente, le vedo tanti, un saluto a Enzo, ad Alessandra, ah, l'ex assessore comune Alessandra Bonduri. Ciao Alessandra, un caro saluto, ciao. Rosangela, Anna, Alessio, Simone, ah, c'è anche Simone Moretti, sindaco. Ciao Simo, il mio sindaco. Esatto, scrive alla mia concittadina e sindaco che tra l'altro sarà qui domani sera, a quest'ora, al posto tuo ci sarà anche Simone. Ciao sindaco, ciao Giuliana e Ruggero, buonasera. Beh, devo dire, attenzione importante, anche appunto ai nostri ascoltatori, questo ci fa davvero molto piacere, sono temi straordinari. Saluto tutti, eh, ho salutato quelli che conoscevo di persona, ma saluto tutti quelli che ti hanno scritto. Anche il tuo sindaco, ovviamente, che appunto, ripeto, domani sarà qui per un'altra bella iniziativa, sindaco ti aspetto allora domani sera. Domiziana, abbiamo detto tutto? C'è 150 cose? Allora, andiamo con ordine, iniziamo appunto questa settimana importantissima, culminerà poi il giorno 15 con questo convegno che facciamo rivedere ancora, eccolo qua, il convegno alla biblioteca di Como, venerdì 15, il giorno proprio Lilla, il giorno del fiocchetto Lilla, ti dico anche che siamo, come dire, in overbooking rispetto alla presenza fisica, ma stiamo organizzando una diretta Facebook o Instagram, insomma poi la comunichiamo sui nostri canali ufficiali in modo poi che chi è interessato a partecipare può partecipare. Questo è importante. E la prima iniziativa, in ordine cronologico, sabato, a Erba, a Villa Ceriani. Questa mostra fotografica che, direi, vale la pena di essere vista, il viaggio nel mondo dei disturbi alimentari a Villa Ceriani. Sì, che ci sarà tutta la settimana, proprio dal 9 al 15. Esatto, al 15, esattamente. Mostra fotografica narrativa, insomma, con queste foto in bianco e nero effettivamente si dice tanto. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di quest'oggi e torneremo ancora mercoledì a parlare anche ancora di benessere psicofisico. Grazie di essere venuta, devi salutare... Io sì, ho un'incombenza familiare. Desidero salutare i miei bimbi, Dylan, Mia e David, perché l'ultima volta che sono venuta... Però digli bene i nomi, perché le hai detto... Dylan, Mia e David, perché mi sono emozionato perché sono stati velocemente. Va bene. Grazie. E quindi li hai salutati così, mamma, a posto, ok. Sì. No, ho visto che ti hanno chiesto espressamente. Sì, perché l'altra volta si sono lamentati che sono venute in radio, ma non li ho salutati. Radio e web, eh, anche web, perché c'è anche web e ti stanno guardando. E quindi... Va bene, Domiziana No, grazie della cortesia, grazie di essere venuta davvero a portarci la tua testimonianza, molto importante. E ricordatevi allora, Settimana Lilla, tante iniziative, diffondetele, fate il passaparola, perché le seguiremo, eh, ovviamente. Grazie, Domiziana, un saluto. Grazie a te, grazie a voi.